E' da un momento, prepara l'esplosione del nuovo video di AndraGamer! Certamente! Capim! Ragazzi, è uscito il secondo trailer di Super Mario Bros. il film. Se vi ricordate il primo trailer di Super Mario, vi lascio il video in descrizione, proprio del link. E niente, andiamo a fare questa reaction seconda di questo Super Mario Bros. Iscrizione al canale, mi piace, commento e iniziamo. Ricordatevi che ho già alzato il volume e l'ho messo a 60, ecco, sistema a 60. Va bene, va bene lo stesso, iniziamo. Vediamo già Mario. Vediamo già Mario qui. Penso che... Ah, questo penso che sia uno stadio, per esempio. Non so. Let's go! Vai! Mario vs Donkey Kong! Oh no! Beh, Donkey Kong è molto forte di Mario, eh. Non so chi è il più forte, raga. Scrivete nei commenti chi è il più forte. Comunque c'è Bowser con i Koopa. C'è pure Luigi. Che è anche un idraulico. Ah, infatti. Mamma mia Bowser, che tipo spietato che sei. C'è pure Peach. La voce di Peach è perfetta. Siamo adorabili! Pure i Toad dicono che sono adorabili. No, vabbè. Andiamo Mario! La nostra avventura comincia ora! I pesce smack! Nel 2023. Tanuki. Peach è fuoco. Yoshi. Hauser. Mario e Luigi. Luigi. Luigi salva... Cioè, Mario salva Luigi. Il suo fratello. Ok. E perfino Mario Kart. Perfino, ovviamente. Mario Kart. E la pista orcobaleno. Wahoo! Let's go! Mamma mia. Ecco, questo loco l'abbiamo già visto. 6 aprile. Raga. Vi dico sinceramente. Non so se questo è meglio del primo. Ma secondo me è questo qua meglio del primo. Perché nel primo non aveva tanta roba. Ma questo. Penso che sia una roba fighissima. Aveva di tutto. Donkey Kong. Pista orcobalena. Eccetera. Ma minchia. Questo è meglio del primo. È meglio del primo. Sincero. Ma non so a voi cosa ne pensate. Scrivete nei commenti qual è il migliore tra il primo o questo. Scrivetevi nei commenti. Avvisatemi con un mi piace. Se volete altre reaction o video. Alte categorie. Mettete un mi piace così io so che volete altri video. E questo è tutto. Io vi saluto. E ci vediamo per un prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.